Ciao. Come stai oggi? Spero che tu stia andando bene. Ti senti benissimo. Grazie. E tu? Sto bene. Grazie. Cosa ti interessa? Dimmi di più. Le lingue mi affascinano. La loro ricchezza affascina. Degno di nota. Quanti parli e quali? Quattro fluentemente. Qualche preferito tra loro? Il francese ha un fascino speciale ed eleganza. Perché? La sua ricca storia culturale e la bellezza mi incantano. Hai intenzione di imparare più lingue? Sì. Il tedesco è il prossimo nella mia lista di lingue. È impegnativo ma gratificante. Cos'altro ti piace? Leggere e le escursioni mi portano una gioia immensa. Generi del libro preferito? Fantasy e fantascienza mi trasportano nei nuovi mondi. Qualche autori o libri preferiti? I lunga cappa rolling e, dune, di Frank Herbert. Scelte eccellenti. Qualche esperienze di escursioni memorabili? L'escursione del Grand Canyon era indimenticabile. Posso immaginare. Posso immaginare. Interessi in viaggio anche a te? Assolutamente. L'esplorazione di nuove culture mi affascina. Posto più eccitante che hai visitato? Giappone. Le tradizioni e la modernità si fondono perfettamente. Qualche destinazione da sogno che vuoi visitare? Italia per cibo e arte. Nuova Zelanda per paesaggi. La cucina italiana è incredibile. Anche gli appassionati d'arte? Sì. Leonardo da Vinci e Van Gogh mi ispirano. Crea arte tu stesso? Sì. Lo schizzo e la pittura sono i miei punti vendita creativi. Fantastico. Quali altri hobby hai? Suonare la chitarra e la cucina sono le mie altre passioni. Puoi suonare canzoni sulla chitarra? Sì. Canzoni popolari e alcuni classici. Degno di nota. Ti esibisci mai per gli altri? A volte, piccoli concerti nei caffè locali. Deve essere divertente. La musica porta gioia. In effetti, è una bella forma di espressione. Qualche altro interesse o hobby da condividere? La fotografia e lo yoga portano equilibrio nella mia vita. Cosa ti piace fotografare? Natura. Paesaggi e scatti sinceri dei propri cari. Sembra una raccolta significativa di ricordi. Che ne dici di yoga? Mi tiene centrato e calmo. Sia fisicamente che mentalmente. È fantastico per il benessere olistico. Qualche sport che segui? Sono un fan casuale di basket e adoro guardare le olimpiadi. Le olimpiadi sono fantastiche. Quale evento ti affascina di più? Ginnastica alla dedizione degli atleti è impressionante. Cambia marcia. Qual è la tua professione? Sono un ingegnere del software presso un'azienda tecnologica. Ti piace il tuo lavoro? Assolutamente. È appagante e stimolante. Qualche progetto entusiasmante a cui stai lavorando? Sì. Un'app di apprendimento delle lingue con intelligenza artificiale e gamification. Quando sarà rilasciato? Miriamo a una versione beta il mese prossimo. Sono entusiasta di provarlo. Pensieri finali? È stato un piacere parlare con te. Rimani curioso. Allo stesso modo. Grazie. Buona giornata. Anche tu. Abbi cura di te e addio.